Gianni Roccio, Fiera di Parma, siamo qui con Tiago Cionec, difensore del Modona. Chi non è? Ho venuto a trovare il mio agente che sta partecipando di questa fiera e ho anche l'opportunità di conoscere un po' di più questo sport che non conosceva veramente niente, sono da guardare qualche cosa in tv però è molto bello, molto carino questa fiera. Quindi hai intenzione di cominciare a giocare a golf da qua a breve? Spero giocare tanto a calcio, però è uno sport che ho provato, fa piacere e tanti giocatori dopo che smettono che Ronaldo, il brasiliano, gioca tanto a golf però è una cosa che è bella, bella. La stagione a Modena come lo stai occupando? Questa seconda parte della stagione è molto bene, abbiamo il secondo turno siamo il leader del mio posto, il nostro obiettivo è la salvezza però anche ieri abbiamo dato un gran passo, una vittoria importantissima e stiamo avvicinando sempre di più con il nostro obiettivo. Tu sei di proprietà del Padova, squadra che sta andando peggio nel Modena come sei adesso, quindi a fine stagione hai già in mente cosa fare? Anche la prossima partita è contro Padova, ma adesso sono proprietà del Padova come ha detto, ma sono presto a Modena e mia testa è 100% qua voglio finire bene questa stagione con Modena e in calcio dopo la stagione si vedrà cosa fare.